Immersi nella bellezza senza tempo dei cortili dei palazzi nobiliari del centro storico di Lecce, ammirando da vicino luoghi ricchi di storia e fascino. Difficile sfuggire anche quest'anno a cortili aperti a Natale, un'iniziativa promossa dall'Associazione di Mori Storiche Italiane sezione Puglia che fin dalle prime ore di sabato mattina ha attirato tanti salentini e turisti. Il nostro progetto è mirato a far conoscere ai nostri cittadini innanzitutto ma anche ai tanti turisti che adesso vengono a Lecce a far conoscere le nostre bellezze e a farle rispettare, a farle amare e a farle rispettare. La quarta edizione di cortili aperti a Natale è un successo grandissimo, un'offerta che va dai cori per i bambini alla musica natalizia, alla cartapesta, alle letture per i bambini. In questa maniera noi passeggiando per Lecce sentiamo le musiche, vediamo i colori, l'allegria, finalmente il sorriso. Il momento non è semplicissimo, finalmente io vedo tante persone che sorridono e sono contenti di passeggiare nella nostra città ascoltando le nostre musiche e godendo delle bellezze, quindi un progetto che va avanti benissimo.